Sì, qui va fatta una operazione che riguarda tutti i temi, mercato del lavoro, liberalizzazione e così via, sentendo tutte le forze sociali interessate, quindi i sindacati, ma anche gli ordini professionali, le imprese e così via. E poi il Governo deve formarsi un'opinione e auspico che la confronti, prima di fare decreti, con le forze in Parlamento che lo sostengono.